Buonasera, siamo sempre qui ad est all'ExtraDry, siamo in pieno avvenimento per quanto riguarda l'aperitivo Enjoy Fisar e questa sera insieme a noi abbiamo anche due produttrici vitivinicole Anna e Francesca della cantina Anna Francesca di Legnago a cui lascio la parola che ci presenteranno la loro realtà e ci diranno alcune cose sulle loro produzioni di vini e quant'altro. Cedo a loro la parola, grazie. Sì, ciao a tutti, noi siamo Anna e Francesca appunto di Anna Francesca Vini e siamo entrambe sommelier Fisar quindi ci sembrava giusto partecipare a questa serata di presentazione dei metodi classici qui a est è sempre una location interessante e affascinante. Noi produciamo Merlot, facciamo questo prodotto particolare con uno spumante rosato di Merlot, facciamo in tren Europa e questo ci contraddistingue oltre a una linea di Merlot completa che comprende anche un Merlot fermo e un passito di Merlot. Quindi lavoriamo su piccole quantità, facciamo poche bottiglie ma molto curate. Io mi occupo di tutto quello che è la vigna, quindi la cura della vigna, voto e lavoro lì, mentre Anna fa la parte commerciale e di amministrativa. Se ci vuoi dire quando siete aperti i vostri contatti in modo che tutti i nostri amici appassionati al vino vi possano raggiungere e possano venire ad assaggiare le vostre chicche e vitivillicole. Allora noi abbiamo un bellissimo vigneto con un laghetto che è visitabile chiaramente su appuntamento, tutte le informazioni sono sul sito www.annafrancesca.it, la cantina, la nuova cantina è ancora in costruzione per cui per ancora alcuni mesi non sarà comunque agibile, utilizzabile, però insomma basta che ci mettiamo d'accordo e si riesce comunque a fare una visita, soprattutto nella vigna che è poi il cuore della cantina in realtà. Per cui appunto sul sito ci sono tutte le informazioni. Allora voi troverete anche sotto il nostro video tutti i link in modo che potete raggiungere la cantina Anna Francesca andare a degustare i loro ottimi vini e una ragione di più sono sommelier Fisar, di conseguenza è una cosa importante, sono nostre amiche e anche fanno parte della nostra delegazione, quindi vi invito di andare a trovare e di seguirci sempre su www.fisarpadoa.it, cercare i nostri eventi e soprattutto cercare le date dei nostri corsi in partenza a fine settembre. Vi ringrazio e un arrivederci a tutti, grazie e buonasera. Grazie.